Berezzi quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle ufficialità di mercato e sarà questo uno degli ultimi video in realtà relativamente a quelle operazioni che sono state siglate nel mercato invernale perché poi continuano ad uscire diversi video visto che nel corso di questi giorni ci sono diverse ufficialità in giro però diciamo che soprattutto per i vari colpi in Italia mi riferisco soprattutto a quello sarà uno degli ultimi video detto questo parliamolo un po' con tutta la calma e tranquillità per il mero gusto di parlare un po' di queste operazioni dei vari calciatori e dei vari colpi ufficializzati dalle diverse squadre e partiamo con il parlare di un colpo siglato dal Foggia in questo caso perché è ufficiale l'apporto di Turchetta dal Limolese attaccante classe 91, giocatore che ha più caratteristiche da esterno infatti è più una offensiva che prima un contatto biennale con il Foggia di Zeman un rinforzo intrigante, un Foggia che aveva portato su altri profili e se ne è parlato fino all'ultimo anche Cuppone sembrava essere vicino alla fine alla tua potenza e si sta già dimostrando un ottimo attaccante per la categoria un Foggia che davanti è una squadra importantissima Curcio che ha una qualità incredibile ma lo stesso Ferrante che è un finalizzatore importante adesso è arrivato anche Turchetta che è un esterno che può dare una mano importante arriva dal Limolese esperienza sicuramente è un rinforzo di livello per il Foggia detto questo colpo della Juve perché ufficiale arriva il numero 9 anzi il numero 7 perché ha preso la mano il numero 7 Vlaovic approda infatti alla corte di Mister Allegra attaccante classe 2000 che fanno un contatto quinquennale con la Juventus arriva per circa 81,6 milioni di euro almeno queste sono le cifre in totale perché sono 70 milioni di euro intradate quindi Juve che non pagherà come poi accade sempre perché queste operazioni sono sempre arate non pensate che sono 90 milioni cash domani gli danno sono tutte arate ovviamente perché poi non c'è nessuna squadra al mondo che possa pagare 90 milioni in un giorno mai questo è accaduto ma accadrà ecco sono arate strarate da 70 milioni quindi poi suddivise vedremo come sono suddivise 11,6 milioni di euro che sono in realtà corrispondono al contributo di solidarietà che in che cosa consiste sostanzialmente? Consiste e più che altro tiene conto del numero di anni durante i quali un calciatore è stato tesserato per una società in questo senso Vlaovic è stato tesserato tra Partizan, Belgrado, Belgrado eccetera per un tot di tempo dai 12 ai 23 anni e questo ha maturato 11,6 milioni di euro di contributo di solidarietà per cui sostanzialmente aiuto a pagare 70 milioni di euro in trarate più il contributo di solidarietà quindi si arriva a 81,6 e 10 di bonus che fanno riferimento che ne so ai gol segnati o alle presenze questi sono un po' i vari obiettivi che si devono raggiungere quando si parla di bonus quindi potenzialmente un'operazione da 90 milioni di euro che sono tantissimi per la Fiorentina che sicuramente per tanti si può essere indebolita secondo me assolutamente no con Miss ha fatto quello che doveva fare perché Vlaovic a Firenze non ci sarebbe mai rimasto perché è un giocatore a rampa di lancio e a Firenze non ci sarebbe mai rimasto in più cioè quelli che dicono ma Vlaovic doveva rimanere ma la Fiorentina avrebbe perso ha fatto un capolavoro la Fiorentina avrebbe perso a zero un attaccante in estate che sarebbe nato lui sicuramente perché a Firenze non sarebbe rimasto perché lui aveva ambizioni aveva ambizioni cioè è un giocatore importantissimo che attualmente Firenze non la merita perché la Fiorentina gioca per l'Europa League al massimo quindi Vlaovic non merita questo tipo di palcoscenici per questo motivo quindi la sua sticella è ancora più alta ed è normale che voglia andare in un club che giochi altri palcoscenici per cui tra il perdere da zero ad acquistarlo a 90 milioni voi cosa volete scegliere? il perdere da zero per averlo sei mesi? poi la Fiorentina ha preso attaccanti come Cabral Arthur lo stesso Pionte che sono giocatori che sono funzionali non sono fortissimi uno dice ti strappi i capelli ma sono funzionali a progetto hai un attacco con Nico González Sottil c'è delle fasce fortissime hai preso Saponana che sta facendo bene è una squadra funzionale non con nomi stratosferici ma con giocatori funzionali e una squadra di calcio si compone di questo tipo di cioè per poter raggiungere obiettivi una squadra di calcio deve essere composta non di calciatori con nomi ma giocatori funzionali che siano forti perché poi Arthur non è scarso Pionte non è scarso lo stanno dimostrando però l'impante è che siano funzionali cioè i Fiorentini che dicono commisso out perché ha asciutto Vlaovic a gennaio 90 milioni di euro a gennaio a 90 milioni di euro potenzialmente ma di che cosa stiamo parlando ha preso Arthur e Pionte che potenzialmente possono fare anche meglio perché sono in coppia perché possono dare un alternativo ulteriore perché è vero che Vlaovic potenzialmente era un fenomeno ripeto ma metti caso che fa male le prossime stagioni il valore di mercato si abbassa tu l'hai venduto a 90 milioni quando tra qualche mese andavi a zero c'è fatto un capolavoro commisso e Pradè e chi per loro cioè di cosa stiamo parlando si veramente poi vabbè questo mio pensiero magari sarà sbagliato sicuramente sarà sbagliato però comunque al dià di questo è un colpo anche importante per una Juve che si rafforza in ottica anche Champions League perché la Juve è pienamente in corsa per la Champions per almeno arrivare nelle fasi finali e mi riferisco alla semifinale almeno al dià di un campionato in cui non sta facendo bene perché la Juve non ha una rosa da quinto posto o anche da quarto volendo ma la Juve non ha una rosa da quinto posto che chi ne dicano i Juventini o Allegri stesso la Juve non può avere l'obiettivo di arrivare alle prime quattro per una serie di motivi ecco uno di questi è certamente la rosa la rosa non è da quinto posto sulla carta e se rende da quinto posto vuol dire che il problema non è cioè c'è un problema che poi scinde dalla rosa stessa che comprende la rosa ma non solo certamente la Juve darà un valore aggiunto in più perché è un attaccante che in area di rigore è devastante che fa anche lavoro per la squadra completo assolutamente un profilo importantissimo che anche per il futuro considerando che un classico 2000 può veramente dare tantissimo ma il colpo importante lo sigla anche la Samp che ha fatto un mercato per il neomistre Giampaolo anche involuteriamente perché Giampaolo è arrivato in realtà dopo la fine del mercato un mercato importante arriva infatti Sensi stiamo parlando di un centrocampista classe 95 che arriva in prestito direttamente dall'Inter prestito secco ecco l'unica pecca di questa operazione è il fatto che non ci sia un diritto di riscatto ma è un giocatore che ancora è nel periodo della carriera se non fosse per gli infortuni non dico che sarebbe come quelli che dicono tecnicamente paragonato a giocatori di stratosferico livello tecnicamente è forte Sensi ma non è il più forte del mondo assolutamente certamente però gli infortuni l'hanno limitato molto la Samp avrà un'occasione di rilancio una occasione per poter dimostrare quanto effettivamente vale e ripeto se in forma può essere veramente decisivo quindi attenzione al colpo Sensi che certamente va a rafforzare la Samp ma parlando di Inter colpo per il reparto offensivo perché il reparto offensivo viene rafforzato con l'arrivo di Calise l'attaccante classe 1988 che arriva in prestito direttamente dal Genoa prestito secco e questo dimostra che cosa? che anche i big club fanno prestiti e quindi i tifosi del Cosenza per esempio al subvenimento di Cosi lamentano di Guarascio quando anche l'Inter fa colpi in prestito vabbè al dià di questo quando avrebbe sulla Cate potere economico per poterlo prendere a Caicedo a titolo definitivo ma non lo fa perché? perché ovviamente il momento è questo ma al dià di ciò Caicedo è un attaccante importante un attaccante che nonostante abbia fatto male in questa prima parte di stagione a Genova con il Genoa però c'è anche da considerare tutte le problematiche del caso un Genoa che ha cambiato società tanti allenatori situazione complicata lui che ha trovato poco spazio però alla corte di Inzaghi a Roma con la Lazio ha fatto benissimo un dodicesimo uomo importantissimo e all'Inter può assolutamente essere di altrettanta importanza se in condizione se in forma e può spodestare anche giocatori come Lautaro e Gieco che in quest'ultimo periodo non sono brillantissimi soprattutto Lautaro a secco ormai da diverse giornate e quindi chissà che Caicedo non possa dare una mano proprio in questo senso per rimpiazzare un almeno momentaneamente un Lautaro non in forma rimanendo a parlare un po' di attaccanti ci sposa a Mese De B perché la Cremonese continua a farmi godere altro colpo di altissimo liaro per la categoria firma infatti Gondò attaccante classe 96 che arriva a titolo definitivo direttamente alla Sernitana Trinano è dedicato per lui e non paradossalmente Gondò viene ceduto e questo perché dico paradossalmente perché in estate si è creato un caso Gondò se vi ricordate un caso scusate mi ho detto Gondò perché è il direttore sportivo della Vibonese quindi ce l'ho in testa Gondò un caso Gondò perché semplicemente in estate era della Lazio la Sanità l'aveva preso ma si parlava del fatto che non l'avesse preso quando era svingolato ma gli accordi erano pregressi quindi c'era da fare un po' un bordello per poi cederlo dopo sei mesi quindi diciamo che è un po' questo il sunto del discorso un po' un caso risolto in una sessione dopo qualche mese in Serie A non ha trovato molto spazio ma è un giocatore che in Serie B ha fatto bene al frutto del gol ha anche nonostante non sia un simi per esempio a livello di difficoltà sempre rimanendo in casa salernitana poi un attaccante che in B ha sempre fatto abbastanza bene ha uno scorso decisivo come altri poi a Salerno per la promozione in Serie A e a Cremona per me può fare molto bene davanti poi troverà Ciofani ma un attacco comunque di livello che comprende anche i giocatori sulle fasce come Zanimacchia è arrivato Rafia come Buonaiuto hanno lo stesso poi fagioli per il reparto tre quarti che comunque è un centrocampista ma che ha più gioca più comunque di rigore Valzania che è un ottimo centrocampista c'è una squadra sugli esterni Sernicola Valeri c'è una squadra veramente pensata benissimo a Cremonese a me piace moltissimo veramente tantissimo e l'ennesimo colpo di mercato Gondò che dimostra quanto la squadra si era forzata con Pec che è un ottimo allenatore può essere coinvolta fino all'ultimo nella lotta per la promozione in Serie A detto questo ci spostiamo in Serie C quindi scendiamo ancora di categoria per parlare di Montevarchi è infatti ufficiale l'arrivo di Nannelli esterno Classico 2000 che approda alla Montevarchi direttamente dal Cesena giocatore molto intrigante Classico 2000 che rafforza così il reparto esterno giocatore comunque di fascia che può giocare sia come esterno alto che come esterno basso comunque fa un po' tutta la fascia e rafforza Montevarchi che è in piena lotta nel girone B per evitare poi il play out e cercare di centrale la salvezza da neopromossa non sarà semplice perché il girone B è molto molto complicato però il Montevarchi è in lotta e il colpo Nannelli è intrigante un giocatore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e che arriva l'impetto dal Cesena detto questo spostandoci invece a parlare un po' di calcio mercato internazionale colpo del Bordeaux è infatti ufficiale l'approdo di Ghilavo Ghì per il centrocampo centrocampista classe 90 che arriva direttamente dal Forsberg impresso con obbligo di riscatto cifre non annunciate però c'è un obbligo di riscatto ciò vuol dire che in estate dovrà essere obbligatoriamente riscattato c'è una pista di grande esperienza che in carriera ha giocato anche all'Atletico Madrid quindi ha giocato anche in Spagna oltre che in Germania al Forsberg la squadra dalla quale arriva un Bordeaux che ha visto il cambio in panchina Petkovic esonerato nuovo allenatore tanti cambiamenti è una squadra che sta facendo comunque molta fatica perché si trova nei bassi fondi del campionato di Ligan e dovrà fare di tutto per evitare la retrocessione centrocampista di esperienza che questa potrà certamente mettere al servizio della squadra quindi rinforzo intrigante rimanendo in Francia ma in questo caso sull'asse Francia-Inghilterra è ufficiale Bruno Guimaraes a proda a Newcastle giocatore attenzionato anche dalla Juventus a diverse squadre di Serie A centrocampista classe 97 che ha ottime qualità che tra l'altro firma un quadrato quinquennale con il Newcastle del fondo PIF e arriva per circa 42,1 milioni di euro quindi più di 40 milioni di euro nel prezzo di acquisizione per un certo campista di ottime qualità a Leone ha fatto molto bene ha dimostrato di avere delle qualità importanti un giocatore che ha una tecnica elevata e che certamente a Newcastle può fare bene alla corte di OU con il quale Newcastle sta facendo comunque bene in quest'ultimo periodo quindi certamente rinforzo generalmente in quanto Newcastle che ha preso anche Trippier ha fatto colpi di mercato funzionali nonostante nomi importanti ma non i Vlaovic i Messi di cui si parlava quando è arrivato il fondo PIF irrealistici al massimo posso pensare che arriverà un giocatore toppissimo tra qualche anno ma Newcastle che adesso lotta per evitare la retrocessione prende Vlaovic ma quando mai magari tra due anni due tre anni quando Newcastle sarà una realtà che stanzionerà sempre in zona Europa in Premier allora mi immagino che arrivi un Vlaovic per dire ma adesso che lotta per evitare la retrocessione arriva Vlaovic vabbè Ghimaraesce comunque c'è una pista importante che certamente può dare una mano una mano ad una squadra che nei prossimi anni sembra essere destinata considerando la società che le sta dietro a migliorare sempre di più detto questo colpo importante però che viene siglato anche dal Liverpool perché arriva Luis Diaz direttamente dal Porto alla classe 97 che è firmato fino al 2027 quindi di ben 6 anni quindi a lungo termine e arriva per circa 45 milioni di euro quindi leggermente di più rispetto a Bruno Guimaraes anche se in realtà ha dimostrato anche in ambito europeo di più rispetto a Bruno Guimaraes perché Luis Diaz ha fatto molto bene con il Porto in Champions ha eliminato praticamente da solo il Liverpool e scusatemi il Milan segnalando un gol da ritorno ha giocato proprio nel girone del non è vero sto scherzando mi sono un attimo no non è vero ha giocato con il girone quindi il Liverpool che l'ha potuto attenzionare in prima persona perché il Porto era nel girone di Champions del Milan dell'Atletico e del Liverpool quindi effettivamente ha avuto l'opportunità il Liverpool di vederlo in prima persona per ben due volte giocatore di estrema qualità un ottimo esterno che sta già facendo bene perché ha segnato se non mi sbaglio due gol due o tre gol con il Liverpool in campionato e quindi è un profilo importante che ha esperienza europea ha caratura internazionale e per rafforzare un reparto che già ha messo benissimo con i vari Salah Manet Diogo Jota certamente è un colpo di assoluto livello detto questo per quanto riguarda invece la Serie A colpo del Torino perché ufficiale arriva Samuele Ricci direttamente dall'Empoli centro campiesa classe 2001 che arriva in presto con obbligo di riscatto allora cifre che sono è un presto oneroso innanzitutto quindi ciò vuol dire che il Torino ha già pagato 2 milioni di euro all'Empoli poiché il presto oneroso vuol dire che paghi subito una cifra relativamente bassa e poi c'è un obbligo e un diritto che dovrà esercitare ma che lo eserciterà però tra qualche mese in tal senso l'obbligo di circa 8,5 milioni di euro quindi in totale sono 10 milioni e mezzo l'operazione Ricci Torino operazione importante perché è un giocatore di ottima prospettiva Torino che lo strappa la concorrenza perché poi c'erano diversi club anche di più di calatura più importante in Serie A che lo attenzionavano anche all'estero in realtà piaceva mi ricordo l'Eister comunque diverse squadre l'hanno attenzionato e il Torino lo riesce a strappare la concorrenza classe 2001 ottima prospettiva nel giro dell'Under 21 ma tra poco anche della nazionale maggiore ed è un giocatore di ottime qualità un centrocampista che ad Eppoli ha fatto molto bene che sicuramente farà stia la sua mancanza anche se Aslani all'Eppoli di Anderazzoli sta facendo altrettanto bene però a dia di questo è un giocatore di livello che va comunque alla forza del reparto giovane e pronto perché a centrocampo il Torino ha Mandragora che è un ottimo giovane in realtà non tanto perché anagraficamente parlando non è più giovanissimo essendo un classe 97 però è ancora relativamente giovane c'è Pobega che è un altro giovane di prospettiva adesso c'è anche Ricci che è di proprietà anzi non è di proprietà a livello attuale ma lo sarà tra qualche mese quindi diciamo che sono un'operazione quella di Ricci Torino devo dire di livello e secondo me può dare una mano importante alla squadra assolutamente quindi più che più che positiva secondo me per un Torino che all'area delle critiche ha fatto un mercato per Iulic importante assolutamente importante detto questo attenzione perché il Milan rimpiazza Pellegri Pellegri che si è proprio accaduto al Torino dopo aver sceso il presto con il Milan Pellegri al Milan non ha praticamente mai giocato piove di molti infortuni arriva il colpo per sostituire Pellegri quindi come terza attaccante come terza prima punta visto che c'è Giroud c'è Ibrahimovic adesso arriva anche Lazetich attaccante classe 2004 che firma un contratto quinquennale cioè fino al 2026 con il Milan arriva direttamente allo stella rossa di Belgrado e per una cifra di circa 4 milioni di euro quindi sono comunque tanti 4 milioni per un classe 2004 che ha dimostrato relativamente poco nonostante stia facendo bene a diverso tempo allo stella rossa con una squadra importante però è un giocatore che sicuramente è stato attenzionato per bene gli scout hanno fatto un lavoro importante in questo senso però resta il fatto che sia un 2004 quindi giocatore ancora che molto acerbo che deve ancora lavorare tantissimo per poter essere definito un ottimo calciatore arriva comunque in un ambiente di grande importanza qual è quello del Milan con attaccanti di altrettanta importanza come Giroud come Ibrahimovic sicuramente potrà solo che crescere alle spalle di giocatori di quel calibro ripeto cifre comunque abbastanza elevate però in prospettiva un ottimo colpo e va ripeto a rafforzare il Milan in prospettiva e per rimpiazzare Pellegri che ha ormai lasciato la squadra detto questo colpo che viene siglato anche dal Feyenoord per rafforzare il centrocampo Feyenoord che a me piace veramente tanto giocatori molto molto intriganti Sinisterra Yacambash Till cioè una squadra molto molto intrigante con diversi giocatori che a me piacciono devo dire e rafforza ulteriormente il centrocampo con un calciatore di categoria è infatti ufficiale animo di Jimi Hendrix no non è Jimi Hendrix ovviamente è Jorrit Hendrix centrocampista classe 95 che approda al Feyenoord in presto biennale con diritto di riscatto quindi c'è un diritto di riscatto un giocatore che in realtà mi sembra torni al Feyenoord perché Hendrix no in realtà è ex PSV in Dove ne giocò qualche stagione fa al PSV in Dove nelle divisie poi in questi ultimi anni ha prodato in Russia lo Spartak di Mosca squadra che lo cede però al Feyenoord quindi ritorna dove fece molto bene in Olanda Hendrix centrocampista di qualità nel piano della carriera che per i prossimi due anni comunque un anno e mezzo rimarrà in Olanda e poi eventualmente potrebbe essere riscattato visto che c'è un diritto di riscatto quindi potrebbe poi il Feyenoord decidere di esercitare questo diritto vedremo se poi effettivamente lo farà oppure no resta il fatto che è un unesimo rinforzo per una squadra costruita bene con giocatori molto molto intriganti e rinforzo per il centrocampo di livello detto questo proseguiamo un po' parlando di Serie C infatti a questo punto c'è da parlare di un colpo che viene siglato da parte della Juve Stabia è di fatti ufficiale l'approdo di De Silvestro alla corte di Mistra e Sottili che in realtà sembrerebbe essere in bilico visto che negli ultimi giorni nelle ultime giornate non sta facendo bene la Juve Stabia però arriva De Silvestro per reparto offensivo alla classe 93 che approda in prestito direttamente dal Grosseto credo adesso ve lo vado anche a dire con certezza certamente ha giocato in questa prima parte di stagione al Grosseto dove non ha convinto particolarmente anche per il vede un po' delle vicissitudini che hanno contraddistinto la formazione toscana un Grosseto che è ultimo e ingrassivo che sta facendo male in tutte le sue componenti non solamente De Silvestro ma è un giocatore brevilineo con qualità che sa saltare l'uomo è un buon buon profilo per quanto riguarda il reparto esterni e approda così nel legione C alla corte di Mister Sottili è una Juve Stabia che rafforza così il reparto esterni ripeto operazione in prestito presto secco e arriva direttamente dal Grosseto quindi tornerà poi in Toscana in estate detto questo colpo della CR Messina infatti per quanto concerne le parti esterni arriva Statella esterno classe 1988 che firma un contatto annuale con la CR Messina arriva direttamente dal Lavello infatti ha militato in questa prima parte stagione regione H di Serie D con il Lavello che tra l'altro era la squadra di la squadra di un ex mister della Vibonese se non mi ricordo male adesso non vorrei sbagliarmi però comunque un allenatore che io conoscevo però vabbè al dia di questo adesso non mi viene in mente il nome però al dia di questo resta il fatto che Statella è un ottimo calciatore per la categoria ha avuto esperienze negli ultimi anni a Catanzaro dove ha fatto discretamente a Vibo Valenza dove l'anno scorso fece discretamente nulla di particolare anche se qualcosa di più da parte da parte sua con la sua esperienza mi aspettavo adesso però dalla CR Messina dove certamente può dare una mano importante alla squadra che è in piena lotta per non retrocedere ma che negli ultimi giorni soprattutto dopo la vittoria a Bari sta facendo molto bene è normale che poi vincere a Bari ti permette di installare di instaurare nella squadra una certa fiducia adesso arriva Statella che rafforza il reparto esterno è un giocatore di tutta fascia ma che ha principalmente caratteristiche e propensione offensiva quindi è più un esterno dalla metà campo in su piuttosto che il contrario ma è un giocatore che vanta tantissime esperienze in categoria e certamente può e rafforzerà il reparto offensivo della CR Messina detto questo ultime due notizie questo in casa Bari alla corte di Mignani infatti arriva Galano direttamente al Pescara alla classe 91 che approda in Puglia in presto con l'obbligo di riscatto quindi dovrà essere riscatto da parte del Bari a fine anno nei momenti in cui si verificano determinate condizioni quindi è un obbligo condizionato al raggiungimento di certi obiettivi non so onestamente quali sono questi obiettivi visto che non ho il contatto sotto mano però penso io sia nella promozione per esempio oppure Tot Presencia vedremo un po' ma è un giocatore di qualità incredibile grandissima esperienza che però Pescara quest'anno con Auteri non ha fatto bene ma evidentemente sono stati dei problemi con il mister però è un giocatore che tecnicamente Brando non si discute e che torna così nella sua madrepatra se vogliamo dire così a detta sua c'erano anche diversi club di B interessati al giocatore ma lui ha rifiutato tutto per tornare a Bari può fare molto bene e con giocatori come Delrico come Chedira in quel reparto anche se Chedira è più un trequartista però in Bari è una squadra fortissima completa tutti i reparti e certamente la candidata favorita per l'approdo in Serie B almeno per quanto riguarda i giorni C detto questo ultima notizia ma non per importanza è quella relativa a Moro attaccante che sta infrangendo tutti i record sta veramente facendo molto molto bene al Catania classe 2001 che approda al Sassuolo quindi in realtà è un'operazione che un triangolare se vogliamo perché c'è di mezzo anche il Padova visto che è arrivato in Sicilia la corte di Baldini in presto dal Padova ha fatto numeri incredibili rigorista ma un attaccante di rigore che segna con grande continuità e un po' in tutti i modi di testa di piede su rigore giocatore importante assolutamente per il futuro poi anche dell'Italia la nazionale italiana essendo un classe 2001 ancora però ha trovato poco spazio in Under 21 perché ha esploso da poco e quindi troverà certamente più spazio nel prossimo futuro però è tornato al Padova che lo gira al Sassuolo a titolo definitivo infatti approda al Sassuolo firmando un contatto quinquennale quindi fino al 2026 per 4 milioni di euro quindi il Padova si porta a casa 4 milioni che sono tantissimi per una società di serie C che mette a posto praticamente i conti non le reinvesterà nel breve anche perché Mora è stato ufficializzato negli ultimi giorni di mercato quindi non investirà subito però sono certamente tantissimi 4 milioni di euro per un attaccante che ha fatto più di 20 gol perché adesso se non mi sbaglio è a 22 gol realizzati comunque tantissimi ma che ha fatto bene 6 mesi quindi deve confermarsi nei prossimi anni questo poco ma sicuro però il Sassuolo si dimostra ancora una volta attivissimo nel mercato nel mercato comunque italiano perché ha giocatori del calibro di Frattesi di Scamaca di Raspadori di Berardi adesso hanno preso anche Moro tutti profili italiani in prospettive importanti si conferma una società da prendere come esempio nonostante non abbia una tifoseria numerosa però per essere il fatto che è una squadra importante e Moro secondo me può essere una risorsa incredibile se soprattutto a livello mentale è bravo a mantenere le pressioni nei prossimi anni può fare bene perché ha le qualità per poter fare bene anche in Serie A non l'anno prossimo perché l'anno prossimo deve giocare in B perché deve accumulare esperienze e fare ancora gavetta però se con la testa c'è Moro può fare molto molto bene in futuro adesso i prossimi sei mesi tornerà a Catania quindi l'attaccante classe 2001 viene giato in presto a parte del Sassuolo al Catania e quindi finirà la stagione lì dove è iniziata come giusto che sia perché non era giusto che lasciasse Catania anche lui evidentemente ha voluto e ha optato per rimanere in Sicilia nonostante poi le problematiche societarie che affliggono il Catania ormai da mesi ma questo è sotto gli occhi di tutti Moro rimane a Catania dove ha trovato Treno Fertile per poter crescere e dove certamente vorrà chiudere la stagione al meglio e chissà che non possa accentrare anche le 30 marcature che sarebbero un record o comunque numeri veramente importanti per lui ma detto questo io mi fermo ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi